e ciao ragazzoli benvenuti o ben ritornati qui nel mio canale io sono rick ed eccoci qui in un nuovo video con anzi un nuovo video della della serie l'opening pack dei poveri con la serie su fifa 16 che vi ricordo come sempre perché ci tengo a specificare le cose serie in cui andremo a vedere se è possibile trovare qualche giocatore decoroso e riuscire a farsi una squadra decente semplicemente usando i pacchetti contenuti nell'edizione deluxe di fifa 16 nei codici preorder quindi senza andare poi a spendere miliardi in crediti allora andiamo a vedere i pacchetti della settimana ne abbiamo tre come di consueto andiamo come al solito a vedere un pacchetto premium che di solito noi apriamo sempre per primi vediamo oro attaccante 78 zazza però però ma insomma non non è male non è male 78 zazza insomma non male oro anche qui di ok 76 abbiamo un portiere quindi douglas abbiamo cisma o sisma adesso io non lo so sapete che i nomi spagnoli o come da questo gran parte dei dei nomi calcisticamente parlando non li conosco 75 insomma dai e besic 75 anche lui vabbè pacchetto nella media sono abbastanza contento per zazza perché mi sembra non male contratto argento contratto forma fisica poi abbiamo modificatore ruolo ok pacchetto pacchetto si scusate carta oro vabbè niente di particolare e la divisa del liverpool come altra altra carta rara oro ok leon questa in casa e abbiamo il cesena in casa ok va bene mandiamo tutto al club intanto ok ma si da andiamo a vedere prima il pacchetto oro ragazzi teniamoci l'altro premium per dopo vediamo 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 un po che cosa succede niente di entusiasmante di guzman 77 come abbiamo l'opera 77 giorgia 75 abbiamo un contratto con maran ok va bene va bene un contratto ora l'unico oggetto oro è questo un contratto va bene vediamo stile intesa uno stemma del va bene ok non lo usano mai perché in pronunciabile ok mandiamo tutto la lista trasferimenti sia al club come al solito e apriamoci ragazzi l'ultimo premium l'ultimo pacchetto oro premio speriamo che questa volta ci vada meglio vediamo dai ovviamente ho detto questa cosa quindi andrà male e infatti e infatti ecco qua ok non hanno neanche messo come anteprima vuol dire che è proprio scarso questo giocatore oro qui quindi 75 vabbè piti vabbè ok spagnolo l'unica roba potrebbe essere l'unica cosa potrebbe essere questa che spagnolo forse potrebbe essermi utile come intesa ma vabbè vediamo giurica non so se si pronuncia così giurica non lo so vabbè poi abbiamo un altro contratto per allenatore credo argenti argenti e contratto come altro oggetto oro e l'ultimo oggetto oro è un altro modificatore ruolo ok va bene intanto un cellulare squilla scusate stadio abbiamo uno stadio non ne troviamo molti e abbiamo ovviamente un doppione perché giustamente no ok l'abbiamo appena trovato nell'altro pacchetto ma quante possibilità ci sono di trovare lo stesso giocatore in due pacchetti consecutivi queste sono cose che vedete solo qui nel mio opening pack nella mia serie quindi a coloro che stanno capitando qui per caso iscrivetevi iscrivetevi per vedere queste fantastiche splendide cose mandiamo tutto al club e stendiamo un velo pietoso come al solito ragazzi vi ringrazio per aver visto questo questo video vi ricordo di lasciare un mi piace per farmi capire se avete gradito lasciate un commento per dimmi la vostra e su per darmi dei consigli ovviamente sul da farsi che sapete io accetto sempre molto volentieri sulla farsi con la rosa intendo lasciate un mi piace anche la pagina di facebook che trovate in descrizione noi come al solito ci vediamo a un prossimo video ciao ragazzuoli